Aumenti di oltre il 30% per quanto riguarda le spese per l'energia da ottobre 2020 a ottobre 2021. Se l'inflazione viaggia a Cremona in modo meno feroce che altrove, grazie a prezzi più contenuti per voci come abbigliamento e ristorazione, sul fronte dell'energia la spesa è aumentata in modo assai importante per le famiglie cremonesi, tanto che la città di Cremona conquista il dodicesimo posto nella classifica nazionale di Unione Nazionale Consumatori delle città con gli aumenti maggiori. Cremona è il dodicesimo città più cara su 74 che abbiamo analizzato, è proprio la voce luce, gas e riscaldamento dell'abitazione. C'è un aumento del 30,2% su base anno, quindi da ottobre 2020 a ottobre 2021 c'è un aumento di quasi un terzo, il che vuol dire un aumento di spesa di oltre 400 euro e questo ovviamente è una spesa obbligata che grava sulle famiglie, indipendentemente dal reddito e quindi è una voce molto preoccupante. Il problema è che nei mesi che verranno la situazione tendenzialmente è destinata a peggiorare e oltre alle bollette ad aumentare all'ombra del torrazzo è anche la povertà. Per il prossimo trimestre, ahimè, andrà ancora peggio, nel senso che già l'autority per l'energia elettrica e il gas, lo dimostro da ottenere le quotazioni internazionali per quanto riguarda il gas, sono in ulteriore aumento e quindi è un'ulteriore stangata. Il governo ha stanziato 2 miliardi di euro dopo i 3,5 messi in occasione dell'ultimo trimestre del 2021 per evitare l'aumento nel senso verbo addirittura 8. Purtroppo la luce e il gas sono spese dove addirittura le persone più povere spendono mediamente di più. Perché? Perché non hanno, ad esempio, elettrodomestici in una classe energetica buona, perché non hanno coibentato bene l'abitazione, perché non hanno il famoso cappotto del super bonus. Si chiama proprio povertà energetica perché grava su tutti, ma in particolar modo su quelli meno abbienti.